Benvenuti in questo episodio di Gelato Shops Around the World. Roberto, quando hai aperto il tuo negozio? Come ho appena detto, sono 30 anni che faccio questo lavoro. Il nostro acronimo è G-E-K, che vuol dire pazzo. E io mi ricorderò sempre quel giorno, ho detto, questo è il lavoro che voglio fare per tutta la vita.